A Palermo la polizia ha attuato su un mandato della procura due ordinanze di custodia cautelare in carcere per Francesco Mistretta di 54 anni e per il 38enne Alessandro Tutone. Le indagini da parte della squadra mobile hanno condotto all'identificazione dei pregiudicati già noti alle forze dell'ordine. Entrambi sono indagati per rapina aggravata e i fatti risalgono a 14 giugno, quando i due indagati si sono messi sulle tracce di un mezzo che effettuava consegne di tabacchi a Oreto. Dopo aver raggiunto il furgone, i rapinatori hanno bloccato gli operai a bordo del veicolo, minacciandoli di morte e obbligandoli alla consegna di otto colli, contenenti sigarette per un valore di 15.000 euro. Una parte della rifurtiva è stata recuperata nell'immediatezza del fatto dal personale intervenuto. Prima della fuga, i due rapinatori avrebbero rinchiuse due dipendenti all'interno dello stesso mezzo, senza la possibilità di scappare o ricevere soccorso. Gli indagati sono in attesa di giudizio presso il carcere di Lorusso Pagliarelli.